Ci chiamano canaglia, ci chiamano fanatici, perché diamo battaglia ai falsi democratici. Ci chiamano reazionari, ci danno tutti addosso, perché siamo avversari del terrorismo russo. Noi siamo gli italiani della destra nazionale, e non i cortigiani del marzismo pericare. Noi siamo i combattenti della destra nazionale, e non c'è chi strumenti di chi non ha ideale. Noi siamo i difensori dell'ultima frontiera, di questa patria nostra, che non ha più bandiera. Ci chiamano teppisti, perché non tolleriamo gli assalti comunisti. Perché noi rifiutiamo i giochi conciliari, che sono celebrati su tanti rossi altari, da tutti rinnegati. Noi siamo gli italiani della destra nazionale, e non i cortigiani del marzismo pericare. Noi siamo i combattenti della destra nazionale, e non c'è chi strumenti di chi non ha ideale. Noi siamo i difensori dell'ultima frontiera, di questa patria nostra, che non ha più bandiera.